Pasquetta con temperature quasi estive in Calabria, dove cielo si è mantenuto sgombro da nuvole anche se sporcato dalla polvere saariana. Oltre i 20 gradi toccati che, in alcune zone dell'interno, hanno sfiorato anche i più 25 per il lunedì dell'Angelo. Tradizione rispettata per le gite fuori porta, con meta d'obbligo le località turistiche montane e costiere della regione. Tutto è solito come accade da alcuni anni a questa parte per ristoranti agriturismi. Qualche presenza in più rispetto agli anni passati si è registrata al mare, visto il clima particolarmente favorevole, con picnic al riparo degli ombrelloni, che hanno fatto le prime comparse in spiaggia. L'acqua, ancora un po' fredda, non ha comunque scoraggiati più adaci, che, nelle ore più calde, si sono concessi qualche tuffo. Presenze turistiche straniere, in crescita nelle principali località marine come Tropea, Scilla sul Tirreno e le Castelle Sovrato sullo Ionio, quasi a rappresentare una sorta di prova generale in vista della prossima stagione estiva. Pienone anche nei principali villaggi turistici della Sila, da Camigliatella all'Orica, ma anche a villaggio Mancuso e Trepidò. Tanti visitatori che hanno approfittato della giornata di festa per fare tappa al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dove, oltre a numerosi altri straordinari reperti, sono esposti i bronzi di riace, traffico scorrevole sull'autostrada 2 del Mediterraneo, un po' più intenso sulle arterie litoranee ioniche e tirreniche, in corrispondenza delle principali località turistiche costiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.